Eccoci qua, salutiamo con questo video. Tu sai a chi salutare? Il nucleo sub di Molfetta. Nucleo sud di Molfetta. Pensavo che stava a sud di Molfetta. Sub. Nucleo sud di Molfetta. Va bene così qua. Nucleo sub di Molfetta. E sta a sud di Molfetta però. Parecchio sud di Molfetta. Come vedete siamo degli esperti pescatori. Ma infatti stamattina siete andati a pescare? No, no, no. Dovevamo andare a pescare. E poi non siamo andati più. E non siamo andati più. Abbiamo letto l'oloscopo. Diceva giornata fortunata per i pesci. Che cazzo è vero? E abbiamo letto. Ciao. 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 Grazie.